Alle prime luci dell'alba i finanzieri di Trapani hanno dato esecuzione a sei provvedimenti cautelari per pubblici ufficiali e privati imprenditori di origine agrigentina e palermitana, tutti gravemente indiziati di aver preso parte ad episodi di corruzione e abuso d'ufficio negli anni 2020 e 2021 presso il parco archeologico di Selinunte, Cave di Cuse e Pantelleria, uno dei più straordinari siti di interesse storico, culturale e artistico del Mediterraneo, al primo posto in Europa per estensione territoriale meta-annuale di numerosi visitatori e studiosi provenienti da ogni parte del mondo. Le indagini condotte dalle fiamme gialle di Castelvetrano dall'estate del 2020 hanno consentito di accettare molteplici irregolarità nella concessione di appalti pubblici da parte dell'ente archeologico con numerosi episodi illeciti a carico dell'allora direttore del parco, due funzionali regionali e tre imprenditori privati. Nel corso delle investigazioni, durate quasi due anni ed eseguite mediante incroci di banche dati, intercettazioni telefoniche, analisi di tabulati telefonici, telecamere occulte, accertamenti bancari e non da ultimo attività di pedinamento, i finanziere avvalendosi delle più sofisticate tecnologie hanno inoculato un Trojan sul dispositivo cellulare in uso a uno degli imprenditori legato all'ex direttore del parco. Contestata anche la corruzione al funzionario di Favara, il quale in qualità di RUP di vari appalti facilitava l'illecita assegnazione delle commesse a favore di talune ditte ricevendo in cambio soldi e l'assunzione lavorativa di propri familiari. Tra gli episodi illeciti maggiormente significativi spiccano gli appalti legati ai lavori di adeguamento covid svolti presso il Museo del Satiro Danzante di Mazzara del Ballo nel giugno 2020 e quelli relativi alla preparazione dell'evento di commemorazione dei coniugi Tusa tenutosi nel dicembre dello stesso anno presso l'area archeologica Selinontina.